Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di ZevaGrant è un gioco che ho preso in saldo su Steve, sembrava molto carino, non ci ho mai giocato ma volevo vedere insieme a voi perché secondo me ne vale l'opina speriamo, vediamo, normalmente è molto difficile, lunatica cioè vuol dire che dipende come si sveglia cioè devo capire se normale è facile, difficile e normale perché a volte può essere visto che non c'è una modalità semplice, non so sinceramente cosa dire diciamo difficile, mi sembra... ma proviamo difficile non vorrei farlo troppo difficile e farla figura di merda perché non ho mai visto il gioco però normale mi sembra tanto di facile, boh, vediamo perché questo libro è legato alla scomparsa di mio padre? inizia così, va bene una giovane mercenaria in viaggio verso Mithrilia ovvero l'ultimo luogo in cui venne avvistato il padre buongiorno mademoiselle Vivian? non capisco se... eh sì, adesso ho capito cosa? e tu chi sei? oh è triste l'ossessione spesso porta alla distruzione oddio santo l'ho vista adesso la faccia canto sia inquietante da dove cavolo sbuchi? i tuoi sforzi e le tue sofferenze saranno la tua unica ricompensa ma... ma cosa dici? vuoi forse minacciarmi? ed ora danza con la tempesta abbraccia il tuo destino è un tipo molto... come dire... oddio complimenti per la miss tutorial al movimento destra cd usate preme due volte preme due volte e mantieni il tasto per scattare due volte e quale sarebbe il tasto per scattare? non lo so preme giù per abbassarti certi attacchi possono essere evitati con le capriole o abbassandosi ah interessante premia per saltare ma sto preme due volte e mantieni il tasto per scattare quale? vabbè in interazioni che richiedono una specificazione verranno mostrate nella parte in basso a destra della schermata di gioco che io ho il... speriamo che mi si vedano ciao è così lui mi ha incrementato qua senza che io sappia né come né dove adesso devo capire qual è il tasto il tasto per correre che si è due volte avanti sembra che prima avesse corso sì solo che è più difficile farlo col corso ok col dipad è più facile ok sembra l'inizio di salto e sanctor non so se l'avete mai giocato oddio premi Y per eseguire un attacco ti spacco in quattro parti mannaggia te ecco qui lo posso prendere tutto da di dietro quel poveraccio ok fatemi leggere per schivare ok però non posso non posso evitarli posso solo schivare nel senso non posso passare attraverso però bottene da parecchie wow mana e abilità i mostri conflitti e rilascio dei cristalli che verranno convertiti in mana il mana può essere utilizzato per aumentare le statistiche del personaggio potenziare il equipaggiamento o addirittura o sbloccare nuove abilità bello premi start per aprire il menu e scegliere l'abilità usa il mana per sbloccare nuove abilità si consiglia di sbloccare le abilità con stellina stellina quadrata o stellina tonda si ho capito adesso vedrò meglio quando mi aprirò il menu ecco già finito da dove viene questa tempesta mai visto nulla del genere qui si mette male ma più che altro da dove cazzo sei arrivato con questa nave cioè contesto la nave si spaccò in due a causa della tempesta e nonostante Vivian lo tolto con tutte le sue forze per sopravvivere le onde ebbero la meglio sembra quasi che così si è deceduta da come lo mette lo tappo la sua vita però le onde ebbero la meglio ecco vedo che i polmoni funzionano bene i primi raggi del sole in di carono la fine della tempesta e svegliarono Vivian con la loro confortevole luce finalmente la terraferma ed ho ancora la mia spada pensate che culo c'è anche i vestiti addosso vediamo un po' wow la gaffi che carina dai è un gioco che costa sui 15 euro il saldo lo trovate anche sui dai 5-6 euro aiuto aiuto non sei la sola a volerlo non sei la sola volerlo a volerlo dirà posso ancora muorri anche se fa male devo farmi forza però si è fatta proprio forza eh oh cazzo ma questo cos'è un cinghialo aiuto qualcuno mi aiuti skrik no skri ok andiamo vediamo un po' oh cazzo stavo per fare la mossa vedete che a questo li possiamo passare attraverso eh oh una fanciulla la ringrazio sei morta senza il tuo aiuto sarei morta senza il tuo aiuto ehm ah si chiama lucia il mio nome è lucia sono vivian dove mi trovo che posto è questo si trova al villaggio di bro broley o brookley non riesco se è una c no non si capisce da dove vieni vivian è tutta da dove vieni vivian è tutta fradicia va detta così è tutta fradicia ha due pezzi di indumenti ed è riuscito a dire che è fradicia eh vabbè la mia nave è affondata a causa di una tremenda tempesta mi sono risvegliato nella spiaggia eh non è che hai qualcosa da mangiare vero non è qualcosa da mangiare ma certo mia cara è il minimo che posso fare mi ha salvato la vita avrai anche perso la tua nave ma la sirene le sirene sono state gentili ha portati qui ah quindi sono state le sirene ma lei era da sola a governare un'intera nave ma com'è possibile ma vabbè facciamo finta che sia possibile andiamo avanti la prego venga a casa con me mi piacerebbe a fine della cena la cena senza della ok wow non mi diri perché ne ha la camera da letto ah capisco non sarà il luogo che cercava ma almeno è a Mitrilia riteniti infortunata allora questa zona è molto più sicura rispetto a dove siamo diretti dirette ma prima gli dava delle adesso gli dava tu mi sta bene non avevo un piano comunque broccoli adesso si capisce è un piccolo villaggio credo non troverai nulla di interessante sono sicura che WITWON non so come si pronunci le piacerà è una città enorme ho sempre desiderato andarci dicono che sia un bel posto mi sembra un'ottima idea credo che darò un'occhiata a questa WITWON Vivian si vuoi aiutarmi posso provarci prometti di non dire nessuno oddio che è successo certo devo recarmi a WITWON ma ci sono orribili bestie sul cammino e ho troppa paura ad andare da sola la prego prenda quest'oro e mi porti a WITWON sicuro un paio di cinghiali non saranno un problema grazie Vivian un gran bel sollievo vado a fare proviste per il viaggio Lucia ti raggiungerò tra poco ma certo incontriamoci al sentiero sud del villaggio e che rimanga fra noi lo dirò alla mia famiglia quando mi sentirò pronta c'è questa piglia se ne vai un giorno glielo dirà vabbè ok premi start per accedere all'interfaccia del menu e cambiare equipaggiamento o controllare oggetti e usare oggetti premi lt per utilizzare una pozione veloce recuperare HP o furia ah abbiamo quella furia ah ok puoi premere lbrb cioè i due dorsali l'alto lt e lt sono i grilletti percorrere le varie pozioni rapide equipaggiamento sezione dell'interfaccia di menu ci sarà un countdown un cooldown non count dopo aver usato una pozione rapida ah quindi non posso usare più di una di fila insomma usare un'altra durante il countdown ridurrà gli effetti di recupero ah quindi si può usare però mi dà meno ok tutto chiaro per aprire un fortiere colpiscilo e rompilo certi fortieri richiedono una chiave specifica per essere aperti apri un fortiere senza la giusta chiave potrebbe danneggiare capisco ma mi dici un po' allora vediamo gli oggetti cosa ho consumabili non un cazzo materiali non un cazzo non un cazzo non un cazzo beh tutto molto chiaro arma beh a meno questa tutto sigillato quindi le abilità non le sappiamo per il momento sappiamo solo che fa di attacco 75 a critico un per cento una cazzata praticamente armatura armatura non l'abbiamo abbiamo un bikini abbiamo ovviamente non abbiamo armatura beh non abbiamo un cazzo di niente sono contento abilità come rimuove abilità ecco attacche nemici a distanza con un'ondata da l'arma eh questo è interessante necessita 50 di furia noi di furia quanto ne abbiamo sarà rage la furia presumo ne abbiamo 100 quindi ne posso usare solo 2 finché lo si rigenera impulse eccolo qua su più b risolto abilità allora per risolto abilità bisogna usare b ok questo è chiaro ah sono due tipi di abilità un'abilità diciamo di rage e un'abilità che possiamo apprendere ok mana 375 però mi devi dire allora presumo sia il mana la roba che devo usare e questo è quanto costa ok adesso ho 0 di mano è tutto chiaro appunti diario ok questo me lo leggo così capisco il contesto se non capisco un cazzo questo è presumo l'encicopedia di mostri dovrebbe esserci quello che aveva appena ucciso troppo lungo non c'ho voglia e tutorial ok leggo un attimo il diario e poi vi faccio sapere ok in pratica ci dice che questa ragazza si è messa in cerca del suo padre e nel vascello che aveva diciamo preso per intraprendere questo viaggio arrivò questo gufo questa strana figura con la faccia da gufo che gli ha detto ma diventa quello che sappiamo poi dopo dice che praticamente approdava sulla spiaggia in salvo e incontrerà una donna che appunto dopo gli chiederà di andare con lei quello che abbiamo appena fatto va bene a posto io direi che per il momento non possiamo fare altro non ho titolo non ho capito non ho titolo e questa come la apro non mi dà niente quindi io l'ho rotta e mi ha dato meno cose da quello che ho potuto capire perché non mi dà proprio il fatto della chiave ma strano vabbè volendo più usato ma non ce l'ho la rage e l'ho già usato sto pensando ok vabbè proviamo di qua oh che cazzo la madre quella mamma mia complimenti per il décolleté per parlare in su grazie per aver salvato e fate la madre se posso aiutarla in qualche modo non esiti a chiederlo ma certo abbiamo pochi soldi dura per tutti lo sai bene non credere che sia la tua banca personale ora dovresti andare in un lungo viaggio che ti ma tu non mi hai dato dei soldi che io non mi sono accorto potresti dirmelo se mi hai dato i soldi vabbè vedrò dopo oh mi scusi era lì era successo insomma non si preoccupi non è che io magari posso andare qua no è molto strano sta stanza e qua ancora io vado in casa della gente che mi accoglie a rompere i vasi saranno tutti felici sì ecco di là si può andare e lì qua no non si fa niente ok andiamo fuori ok andiamo su e oh premi select per vedere la posizione corrente nella mappa le aree circostanti le zone non visitate rimangono nascoste giocatore destinazione punto di salvataggio e boss ok tutto chiaro vediamo un po' e quindi non ne vediamo un cazzo perché ovviamente è tutto è tutto oscurato oddio posso fare azioni quando sono in menù questa è una cosa bruttissima vabbè salve lei è e tu chi sei un'altra mendicante a giudicare dei vestiti grazie molto gentile lucia si è cacciata in un bel guaio avrebbero dovuto sperlo nessuna pietà da parte mia che cazzo quindi non posso andare di qua vabbè andiamo di là andiamo a vedere cosa possiamo fare vado così perché mi sembra di andare più veloce questo si può rompere mi sembra di no ok devo vedere se così o così vado bello andiamo cosa mi dice benvenuta viandante il mio nome è Watford sono il capo villaggio di Brooklyn fa come se fossi a casa tua te lo meriti dopo aver salvato Lucia premio in su però non mi fa fare un cazzo ok è una ragazza tanto gentile siamo grati per il suo coraggio ok vi avrei sapere quando il dialogo finisce perché purtroppo non me lo dice oh storia stele puoi viaggiare velocemente tramite le steli steli puoi anche salvare i progressi di gioco beh questo è interessante salva ok proprio pochi pochi viaggia però ce ne sono di destinazioni complimenti ok possiamo andare io la nostra amica non so dove sia francamente andiamo prima qua ma che è meglio salve mi hai fatto prendere un cazzo di colpo porca miseria devo capire il range come si oh carota ma non so se ho trovato un punto segreto o vabbè comunque vorrei tanto sapere cos'è oh bella questa mossa bella bella cos'è distruttibile cosa no lui non posso parlarci ah sì ecco adesso sì grazie per aver salvato la mia fidanzata e tu sei la prego di perdonare la mia babbuzia ma sappi che rispetto Lucia e mi rifiuto di forzarla a questo matrimonio ma che cazzo ma parlerò col mio proprio padre se Lucia non vuole si può usare io risuncerò ma che cazzo sta dicendo vabbè questo oh mi dispiace tanto non è che volessi farle del male però ma è che qui scusi è ormai qua oh ma aspetta ti posso uccidere ah si è infinita che peccato mi dispiace vabbè pazienza dicevo che potevo fargli il male invece no va bene oh posso andare qui interessante vediamo la mappa effettivamente sì e basta questo cazzo di cosa ok mi sono ricaricato non so come ma questo è l'importante ok andiamo di qua porca vacca tu sei un nemicio ecco adesso non lo sei più perfetto mamma mia quanta bella cosa lei è esattamente chi chi sei cosa vuoi vuoi rubare il mio raccolto eh sparisci ho lavorato duro su questo campi non è rubato è raccolto eh beh ti taro d'occhio ok non rubo raccolti adesso vi invito a rompere le giare per vedere se c'è qualcosa dentro beh non è male perfetti ok questo si può rompere sì ma non c'è un cazzo bambini eh ragazzi guardate questa tizia sembra una strega e e cosa facciamo noi alle streghe soletica la strega soletica la strega soffri ehi smettetela è ora di abbandonare questa città ragazzi non l'altro che fango e matti in giro non ne vale la pena schiacciala voi mocciosi non avete i genitori ci stavi spiando sparisci ehi hai due grossi bersagli proprio di fronte a te distruggi 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 meglio ignorarli vabbè questi sono fuori ok andiamo a se oh no c'è niente questi continuo oh vabbè qualcosa c'è oh bene vediamo un po' beh beh la roba c'è oh salve posso oh questo li posso uccidere oh carota quindi sono arrivato fino a qua per una carota vabbè meglio di niente ok andiamo pure ma se usassi la mappa magari mi dicesse che non mi dice un cazzo la mappa vabbè pazienza andiamo pure ecco qua andiamo di qua e proviamo a proseguire a sto punto magari non si può ammazzare abbiamo capito che è meglio di no questi li possono per sì oh spinaci salve signorina molto piacere di conoscerla abbiamo i prodotti più freschi e succosi della città immagino che siano succosi oh ma è una vendor non è che abbia tanto però deposita da pacco da poco deposita da poco da pacco ma che cazzo dico io non ne ho idea di cosa servono queste cose però vedo che costano veramente tanto perché 250 gold per una cazzo di carota mi serve un po' eccessivo ovviamente la roba che ho io non costa un cazzo venderla ma a comprarla costa una miseria va bene non c'è nulla che ti piace ti assicuro che è roba di prima qualità noto noto va bene signorina arrivederci è stato un per piacere ok quindi io entro dentro le case delle persone rompo tutto e poi me ne vado mi sembra ovvio qui non è che posso rompere la jarra peccato no non posso farlo va beh andiamo è stato un piccolo signorina ci vediamo alla prossima oh salve signore ehi ehi prego si accomodi accomodi dove odorare è gratis ma assaggiare costa torna quando avrei soldi va bene vediamo un po' cosa mi dai oh salve signori ma in questo gioco hanno dei polmoni veramente pieni prego come posso servirla andiamo a cosa ma porca miseria ma quanto costa la roba qui se lo vuole ordinare devo chiedere di uscire devo tenere i tavoli liberi porca miseria che razza di carne che c'è in giro qui vabbè andiamo pure mamma mia quanti posti ci sono vabbè dove siamo qui siamo qui punto di salvataggio allora se qui c'è un punto di salvataggio presumo che di qua devo ancora andare salve devi essere la forestiera che ha salvato Lucia mi chiamo Alex sarò per sempre in debito con te ti prego di accettare questo segno questo insegno di riconoscenza si ma non me lo attirare nel casino ah c'è vabbè vediamo un po' devo andare addio sei stato gentile alla fine quello serve no qui non penso possano si possono prendere tutto spezie non dici niente signore signore salve si si vieni vieni ho pozioni di tutte le tasche speriamo che non costino 500 appunto 2005 ma te hai fumato i pesci a mare no no ci sarà pur qualcosa di cui hai bisogno dare un'altra occhiata magari dopo grazie quindi io me ne andrei per carità un bel posto non lo metto in dubbio però un po' gustoso su andiamo io prendo tutto oh cipolla ho preso una bella cipolla ma questo è il fabbro e io vincella dà un'occhiata al migliore equipaggiamento di questa locanda di questa landa però allora questa fa 70 io faccio 75 quindi presumo che la mia sia meglio questa fa 80 è sicuramente meglio ma 8000 gold 15000 ma porca miseria questo è un dot io non ho così tanti soldi non posso farci niente è stato un piacere suppongo lei non sia in grado di riconoscere l'arte quando la vede deve aver paziente sono appena arrivato c'è una miss molto molto miss quindi qui dovrebbe essere ma vaffanculo qui è dove oh beh interessanti dove stavolta stavo dicendo dove sono prodato non posso farci niente beh dai però abbiamo preso delle cose interessanti vediamo se questo sia proprio beh non male sicuramente che cazzo prendo qua altre cose non si può spendere niente eh beh io me ne vado a sto punto vado dove dovevamo andare prima che era qui no qui qua ok andiamo andiamo a salvare direi che possiamo tranquillamente fermarci qui se c'è da salvare e c'è da salvare perché in teoria dovrebbe esserci eh porca miseria ok ma qui ecco infatti mi chiedevo non è che magari c'è qualcosa aspettate oh che non è proprio semplice semplice ok andiamo vorrei vedere eh cazzo più salto non c'è magari c'è qualcosa di nascosto però non c'è un cazzo va bene andiamo pure ci sarà appunto salve a un certo punto oh salve lei Lucia grazie per l'aiuto Vivian forse incontreremo delle bestie sul nostro cammino ma non ho paura con te al mio fianco non mi staccherò da te basta che lo fate una cosa insomma sì ma io al punto salve non lo vedo ragazzi cioè sarò ricoglieto io eh sì ho capito però lui mi dice che il punto di salvataggio è sopra va bene a questo punto vado a salvare e ci vediamo nel prossimo episodio direttamente quindi ragazzi come al solito vi invito a lasciare un like un commento se vi piace lasciate e fammi sapere cosa ne pensate e poi adesso vi saluto prossima ciao ciao